Raga, io sono milanese, cioè milanese, sono un po' terone anche io, però diciamo sono nato e cresciuto a Milano, quindi Milano ovviamente la amo, però quanto cazzo è bella Roma, ragazzi, in tutto e per tutto. Comunque ragazzi, da oggi sono ufficialmente in ferie per una settimana buona, finalmente pure io, quindi per tutti i colleghi, gente che lavora con me, amici che devono chiedere favori, per una settimana non mi cagate il cazzo, lasciatemi tranquillo. Faccio un po' di mare, pranzetti, barchetta e poi lo sapete cosa si fa, si torna a Milano, ci si mette subito in studio a lavorare, ha un cazzo di nuovo disco, raga, ho voglia di fare un disco, ve lo dico, serio, serio, sono proprio in un mood dove ho voglia di fare un disco che oltre che bello sia anche funzionale, ho voglia di tornare a mangiarmi le classifiche. E siccome sono, non lo dico, non lo dico cosa sono, però voi sapete che vi potete fidarvi, ma quando dico una cosa si avverrà sempre, vedrete.